oh ah il video dell'accensione si accensione bisogna vedere se fa andellina nuova della t5 ora il coso di filtro non ce lo metto tanto la se non si mette che buttare bassi nulla fischia se parte io riseso divento un mago delle vespe che alla fine la prima volta metto le mani su un vespone su una t5 questo l'ho attaccato è stato attaccato che pipette di merda di questo si prova? beh la miscela ci l'ho messa si se non giro la chiave questa c'ha la chiave qui la benzina a questo va a pressione la benzina mi sembra si guarda c'è fisio qua oh no c'è qualcosa che non va leviamo l'aria ma che piaccia se il cilindro da domenica resta eh ma c'è da dopo vent'anni ferma va 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 mi sembra l'entra mi vibra al minimo venti quattro per la chiave e vibra non importa se mi fa mi si legge una sega qua ma ti segna non ci legge non ci legge non ci legge non ci legge quattordici venti trenta cinque chi si ha? questo fa? 3 1 vai 1 pari pari si pari pari le brecce? si buono ci lascia un po' in accesa almeno Cristiano ha fatto il girolo su Vespa che ora ci ha fatto un brullo in carburatore ciao Guzze ha fatto da me il carburatore nella Vespa anche questo ciao raga un abbraccio e da Cristian e da a Grazie.